favorito Sor Bruno 3.64 in alternativa a Sanda Gongal 3.84 completamento dell'allineamento arretrato Sabu Geyus numero 6 con cautela Supercross numero 5 via la macchina in velocità buono il lancio rientra bene Sandros ma a largo interviene facile Still Nash che passa a largo Scarvictori poi Sor Bruno cavalli che affrontano la prima curva completano il lancio nell'ordine del 14 e Sandros al comando che ha mandato via Still Nash ma ora è la volta di Scarvictori rappresentarsi con Sele dell'Ulmo nella sua scia sta passando il pupillo del dottor Di Maro 29.9 ma papà salvatore dell'annunziato sull'errore addirittura di Still Nash passa lontano il 12 di Sveva del Ronco 600 viene via ora Muscolini con Sandros 43.8 i 600 e l'allievo di Muscolini va su Sele dell'Ulmo viene via anche Santa Gongal in anticipa su Siclor mentre è chiuso per il momento Sor Bruno mezzo miglio in 59.8 si viaggia la categoria in media terza ruota costante di Siclor i cavalli affrontano i rettilini di fronte ora Sandros fa sul serio si va a timbrare un chilometro bollente per la categoria in 1.14.7 si è eliminato Siclor 500 alla meta Sele dell'Ulmo torna in leggero vantaggio cavalli che affrontano la curva finale in anguata e Sandro Gangal e viene via Sandro Gangal 14.5 1.29 2.75 di miglio azione redditizia del targato Gal con Giorginio completamente la curva finale insiste Sandro Gangal e mi sa che è prevalente Sandro Gangal ci vuole la tigra del Bengala per questo Sandro Gangal la tigra del Bengala Sandro Gangal alla grande Sandros è ottimo secondo addirittura ribatte Sele dell'Ulmo 1.59.5 corre corre e viene sempre più avanti oggi era quasi a rientro questo Sandro Gangal e Giorginio dispone con il suo allievo gli avversari nel modo più facile e vittorioso per il secondo ottimo questo Sandros da seguire per la prossima volta con il buon Muscolini è tutto per il momento la quota è 3.84 per il targato Gal grazie a tutti grazie a tutti